Comandante Pugliese, le strisce blu quando entreranno effettivamente in funzione sul territorio di Ischia? Diciamo che stiamo curando gli ultimi dettagli dei software e quindi penso che oramai ci siamo. Noi speriamo di riuscire a partire per il primo agosto, di riuscire a partire sia per quanto riguarda le strisce blu che per quanto riguarda le ZTL, il controllo elettronico. Ricordiamo agli ischitani che intanto già sono partite le procedure per gli abbonamenti? Sì, la società incaricata del servizio sta già raccogliendo tutte le istanze per il rilascio degli abbonamenti sia ai lavoratori che ai residenti in base praticamente alle zone di competenza. Ricordiamo che le tariffe comunque non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno? No, le tariffe non hanno subito nessuna variazione, anzi se proprio vogliamo essere precisi con il meccanismo che praticamente attua la società si dovrebbe avere un piccolo risparmio. In che senso? L'abbonamento parte dal giorno in cui viene sottoscritto, quindi se io vado il giorno 5 del mese non mi scade più il 31 come succedeva da noi ma scade il giorno 4 del mese successivo, quindi tutti i 30 giorni del mese operativo. Poi anche per quanto riguarda la sosta ci sono delle... c'è un'applicazione per il quale uno paga l'effettiva sosta che realizza cioè praticamente se io vado a parcheggiare alle 9 e vado via alle 10 e 5 io pagherò fino alle 10 e 5 e non più un'altra ora come avveniva con noi. E tra l'altro la presenza dei parchimetri per tutto il territorio comunale renderà più semplice per gli utenti il riuscire a fare il tagliando. Sì, voglio precisare che questi parcometri che sono stati acquistati dal comune, cioè il comune praticamente ha acquistato sia i parcometri che l'impianto delle telecamere praticamente pagandolo a questa società con gli incassi che si fanno durante i 5 anni della gestione. Incassi chiaramente che verranno divisi in percentuale con il comune. Tutti i posti sono stati numerati, questa numerazione ha una duplice funzione, quella del controllo da parte degli addetti alla sorveglianza che con i loro palmari possono verificare immediatamente se quel posto che risulta occupato sia stato pagato o meno. C'è la possibilità da parte dell'utenza di pagare a distanza un prolungamento della sosta.